nell'armadio in cui conservo tutto ciò che la mia fantasia ha partorito fin da bambino oggi ho trovato un quadernetto sul quale annotavo i risultati dei tornei e le classifiche a tipi di tennis anno 1996 un'epoca in cui internet era ancora un lusso per pochi e ci si affidava a televideo e riviste mentre poco tempo dopo sarebbe arrivato un sito bibbia per gli appassionati come steve g tennis ancora prima di quello ufficiale atp l'occhio mi è caduto sul ranking del 17 giugno 1996 il numero uno era l'austriaco thomas muster fenomenale terraiolo il migliore italiano renzo furlan oggi allenatore di jesmin paolini al 27esimo posto andrea gaudenzi odierno seo dell'atp era 31 pesco solido bravissimo commentatore tv 70 poi il vuoto l'italia aveva la miseria di tre giocatori nei primi cento oggi quasi 30 anni più tardi il mondo si è capovolto tanto che se john titor il fantomatico viaggiatore del tempo fosse tornato indietro dal 2024 a dirci allora che l'italia sarebbe stata il movimento numero uno al mondo non gli avremmo sputtato in un occhio perché una menzogna così grande era impossibile soltanto idearla e invece john titor avrebbe avuto ragione l'italia domina nel tennis e questo sport è forse attualmente più popolare del calcio tanto da guadagnarsi le prime pagine dei quotidiani sportivi impensabile fino a poco tempo fa e le aperture dei siti generalisti impensabile e basta addirittura le dirette tv sulla rai non serviva la vittoria della coppa davis la seconda consecutiva per affermare questo primato è soltanto la ciliegina sulla torta un trofeo vinto con la forza di chi era favorito già a settembre e ha semplicemente fatto il proprio dovere pazzesco se mi avessero fatto il riepilogo dell'annata 2024 nel 96 mentre segnavo a penna i risultati sul quadernetto per poi parlarne la sera con il mio migliore amico fantasticando sui giocatori mai visti sarei scoppiato a ridere a proposito il mio amico non c'è più dal 2012 a lui davvero nemmeno ci avrei provato a spiegarglielo oggi l'italia ha il numero uno al mondo della classifica maschile yannick sinner che nel 2024 ha vinto australian open us open atp finals e tre master mille mettiamoci pure la coppa davis perché questo filotto reale non lo aveva mai fatto nessuno una stagione per statistiche complessive degna dei migliori federer giocovic l'handl e meckerro assurdo ma lasciamo da parte sinner l'italia chiude il 2024 con 6 giocatori nei primi 50 e 9 top 100 con la bellezza di 13 tornei vinti il bronzo olimpico di musetti due finali slam in doppio a firma di bolelli e vavassori protagonisti alle finals di specialità tra le donne abbiamo vissuto la clamorosa stagione di jasmine paolini finalista a rolanda ross e wimbledon campionessa master mille a dubai numero 4 del ranking wta con l'eterna sarah errani paolini ha conquistato l'oro olimpico a parigi e l'accesso alle finali di doppio a novembre poi la straordinaria fermazione in billy jean king cap per rinverdire i fasti degli anni 10 se nel 1996 mi avessero detto tutto questo non avrei avuto le risorse necessarie per gestirlo semplicemente non ci avrei creduto tornando a pensare che un quarto di finale di gaudenzi agli internazionali di roma fosse già un risultato clamoroso molte volte noi genix diciamo per scherzare ma che ne sanno i 2000 ora mettiamoci anche quelli nati nel 2010 o giù di lì che cresceranno pensando che sia normale che l'italia domini il tennis che fioriscano campi ovunque che le finale atp siano nel nostro paese fino al 2030 io ancora mi ricordo quando andare a roma era bellissimo perché riuscivi a camminare per il foro italico senza essere schiacciato dalla folla a milano potevi parlare con i giocatori nella calma di uno storico atp 250 mentre chiedevi l'autografo a rino tommasi e lui ti rispondeva con la sua risata serafica con uno dei miei te ne danno due di galeazzi tutti questi ricordi sono destinati a rimanere tali nella mia mente anche perché il mio compagno di viaggio di allora come detto non c'è più e mi sono trovato a domandarmi dopo avere visto sinner berrettini capitano volandri e gli altri sollevare la seconda davis consecutiva se fosse più bello oggi o allora quando il tennis non era dominio pubblico ma appannaggio di pochi appassionati quando i social non esistevano e non si spargeva odio sugli avversari quando il tifo da curva era riservato soltanto al calcio quando un giocatore lo immaginavi nella tua mente prima di riuscire a vederne anche solo un 15 in movimento e però però poi mi sono risposto che gen x ok ma boomer ancora no e allora complimenti all'italia ai suoi giocatori a volandri alla federazione che pur con molte contraddizioni ha lavorato benissimo negli ultimi 30 anni favorendo la crescita del nostro sport preferito l'italia domina il tennis ci avrebbe detto john titor e avrebbe fatto più rumore di una possibile terza guerra mondiale